Ciao amici, sono Lox, bentornati sui Fatti e l'Opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport, un video sul campionato di Serie B, una delle partite di ieri sera reggiana contro Cosenza. Avevo visto il Cosenza nelle ultime giornate, ne ho parlato in termini sostanzialmente positivi perché al di là dei risultati, dei buoni pareggi ottenuti giocando sostanzialmente una partita su due con l'uomo in meno ho trovato il Cosenza, magari non con la stessa brillantezza dell'inizio del campionato ma sicuramente con l'emotività e la forza che Alvini gli sa dare. Nella gara di ieri vittoria 1-0 del Cosenza, una partita vinta direi meritatamente, una gara con un'infinità di extra, allenatori e giocatori tra le due formazioni, Viari però non è riuscito stavolta a imbrigliare il gioco di Alvini, la reggiana ha giocato una partita veramente mediocre, peraltro avrò l'occasione di vederla anche nelle prossime settimane perché affronterà altre squadre delle quali abitualmente mi occupo nel canale e quindi voglio vedere se questa partita di ieri sera è un incidente di percorso o invece è un preoccupante segno di involuzione da parte di una squadra che invece aveva cominciato il campionato piuttosto bene. Viceversa per il Cosenza la conferma su buoni livelli, un risultato peraltro che mette il Cosenza ora diciottesimo con dieci punti ma se togliessimo la penalità i punti realizzati, penalizzazioni, i punti realmente realizzati dal Cosenza sono quattordici sarebbe a un passo dalla zona playoff. Non mi sorprende perché il Cosenza è proprio l'esempio di peraltro ritornando Alvini proprio a Reggio Emilia uno dei camp delle zone delle squadre delle società dove meglio aveva fatto in carriera Alvini è proprio un tecnico che sa plasmare le formazioni come serve e come riesce. Anche in questo caso un bel Cosenza, un Cosenza quadrato, un Cosenza agonistico, un Cosenza che fa i falli anche quando serve farli, un Cosenza che non cincisca, non perde palla, gioca in avanti, stavolta è partito strizzolo come bomber titolare suo l'assist nella rete di Ricciardi ancora in gol, un Ricciardi che prima si era divorato un'occasione piuttosto clamorosa su un buco della difesa della Reggiana poi invece è stato bravo a metà del primo tempo a trovare la rete del vantaggio. La gara non ha avuto tantissime occasioni da ambo le parti il Cosenza soprattutto nel primo tempo ha giocato molto meglio e ha controllato molto meglio la sfida, la Reggiana alla fin fine nel secondo tempo qualcosina in più è riuscito a farlo però devo dire la verità non credo che Cosenza abbia mai realmente corso rischi, non ho mai avuto la reale impressione che da questa partita non potesse uscire un risultato, potesse uscire un risultato diverso della vittoria del Cosenza proprio perché mi è sembrata molto più efficace la prestazione degli uomini di Alvini. Un po' di turnover, su questo sono relativamente d'accordo perché penso che dei ragazzi professionisti tre partite in otto giorni li possano anche tranquillamente giocare e abbiamo testimonianze anche per esempio in Premier League di formazioni come Liverpool che cambiano raramente la formazione e guardate che tipo di stagione stiano facendo però al di là di quello se poi i risultati arrivano chiaramente va benissimo, un Florenzi prima stella della serata che ha giocato anche stavolta una gara veramente molto intensa, molto gagliarda, un giocatore che al di là dei limiti fisici ovviamente non essendo particolarmente forte però è un giocatore tecnico soprattutto con una voglia infinita che sa fare veramente molto bene, a mio avviso è stato il migliore in campo. Rizzo Pinna da titolare, ero curioso di vederlo, credo se lo sia guadagnato con l'ottima prestazione contro la Juve Stabia però devo dire è stato meno intenso di quello che riesce a essere quando gioca solo uno spezzone di partite. Mi ha fatto molto piacere vedere anche Martino titolare, altro ragazzo che si era meritato assolutamente con la grande prestazione nella sfida di settimana scorsa, una buona partita per lui, anche lui roccioso, combattente, non c'è mai un pallone che non si possa andare a recuperare, non c'è mai una palla persa, non c'è mai un duello che non si può vincere contro qualsiasi avversario e queste sono proprio le qualità che con Alvini sono perfette e che lui riesce a mettere veramente molto bene in pratica. Da Reggiano è piaciuto il portiere Bardi, molto sicuro, un paio di belli interventi nel primo tempo, poi invece ho visto veramente tanta confusione, là dietro soprattutto due giovani totalmente in difficoltà come Fontana Rosa, probabilmente il peggiore in campo e anche Lucchesi. Allora c'è stato ieri il grande duello, il grande derby tra Lucchesi e Dallemura, due protagonisti della retrocessione dell'aternale dello scorso anno che come ricorderete venne infarcita di giovani speranze tra molte virgolette. Ecco Lucchesi era proprio uno dei giocatori che più mi faceva impazzire, al contrario, è bellissimo quando riesce a spingersi davanti, io credo non sia un difensore, è un fluidificante, un'ala, un qualcosa, è bello quando cavalca via ma a tutta velocità, cavalca via non nel senso del punto ovviamente, ma cavalca velocemente verso la porta avversaria ma per il resto dietro lo trovo veramente poroso come pochi e anche ieri trovo che abbia fatto molta fatica. Mi era piaciuto l'inizio di partita di Portanova, poi però calato nella ripresa, al contrario Vergara è partito male ma ha finito un po' meglio, è stato forse uno dei meno peggio della Reggiana che ha avuto molto poco anche da davanti con Vido poi sostituito da Pettinari ma anche lì io nella mia follia di non riuscire a capire il calcio moderno mi chiedo se sotto nel punteggio inizia il secondo tempo, puoi togliere una punta per mettere un'altra punta ma non si può provare, provare a giocare dannatamente con due punte e magari qualcosa può succedere, usare un pochino le fasce. Il calcio, io ve lo dico sempre, mi permetto di pensare che sia molto più semplice di quello che i soloni ci vogliono fare credere e Alvini già un pochino di più ce lo dimostra perché se si è lì, si va alla grinta, si recuperano i palloni, si va sulle fasce, nasce dalla fascia il gol, pensa che è strano nasce dalla fascia con il cross e nasce con la spizzata di strizzolo di testa, usare le punte, usarli in mezzo all'area, che fanno la sponda, i cross che gli permettono di avere i palloni, il calcio è molto più semplice di arrivare alla rete con le lucubrazioni particolari Comunque, partita brutta, complessivamente, niente da dire, arbitrata anche così così da Monaldi, del quale vi parlo sempre come uno dei miei arbitri preferiti tra quelli arrivati negli ultimi anni della Serie C, però devo dire la verità, purtroppo trovo che stia facendo un po' più di fatica in Serie B, non arbitra con la stessa tranquillità e autorevolezza che aveva al piano di sotto nel campionato inferiore e anche ieri trovo un arbitraggio non decisivo ma disordinato e che sicuramente non ha aiutato uno scorrere migliore della partita. La trasferta sul campo del Bari e in casa col Catanzaro, le prossime due partite per la Reggiana a 13esimo con 12 punti, la Salernitana in casa e la trasferta sul campo di un Brescia un po' in un momento difficile e un ricordo di quella splendida prendi la salvezza di un paio di stagioni fa del Cosenza con i play-out, sono le prossime partite del Cosenza. La prima stella della serata va a Florenzi, la seconda a Ricciardi e la terza la do a Dallemura perché, ripeto, Dallemura, del quale vi dicevo già l'ho seguito tante volte l'anno scorso, mi sembrava sempre uno dei meno peggio dei giovani giunti alla Ternana e ieri trovo abbia giocato molto bene anche in questo ruolo da centrale di una difesa senza Ristov, con Campolese infortunato, con un po' di difficoltà, è una difesa nuova e trovo che abbia giocato bene quindi mi piace premiarlo perché anche se non tifo tantissimo per i giovani, però quando fanno bene sono contento di farlo rimarcare anche nel nostro angolo del nostro canale. 6,5 a Bardi, 6 a Libutti, 5,5 a Meroni, 5 a Lucchesi e 4,5 a Fontana a Rosa, 6 a Marras, 5 a Reinhardt, 6 a Sersanti, con un'occasione grandissima per lui e una gran chiusura di Charlize che ha salvato veramente il punteggio e 6 a Vergara, 5,5 a Portanova, 5 a Vido, 5,5 a Pettinari, 5,5 a Girma, 5 a Viali. Per quanto riguarda il Cosenza, 6 a Micai, 6,5 sia per Martino che per Dallemura che per Caporale, 7 all'ottimo Florenzi, 6,5 a Juan, 6,5 a Charlize che secondo me resta un giocatore turnovero o meno da tenere sempre in campo, 6 a Ricci, 7 a Ricciardi, 6,5 a Strizzolo e 6 a Rizzopin, 6 a Curfalidi, 6 sarebbe 6 più, in realtà qualcosina in più di 6, però forse non abbastanza per il 6,5 a Rizzopin. 6 a Curfalidi, 6 a Zilli, 6,5 a Venturi, 7 a Dalvini che è stato molto bravo, ho già parlato di Monaldi, il voto è 5,5, devo dire la telecronica di Sgarbi è una delle poche, con il suo ritmo tranquillo, chiacchiere un po' così come se fossimo al bar, trovo che sia uno dei più gradevoli comunque da ascoltare, dei telecronisti di The Zone per cui il voto per lui è 6,5. Tutti qui per la Serie B, ancora un paio di video di questa giornata e poi naturalmente nel weekend con la prossima giornata. Iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao a tutti e un bacio da Lox.